Benvenuti in Italia, è qui di nuovo per chi è di richiedere le dimissioni di questo governo e da settembre che Benvenuti in Italia chiede a tutti i consiglieri regionali anche con un appello documento di sottoscrivere le proprie dimissioni e quindi di richiedere le dimissioni di questo governo per una semplice ragione, la politica deve avere il coraggio di arrivare prima della giustizia perché vi è un'etica, perché vi è una dignità delle istituzioni. Cioè che bisognasse fare un patto, forse l'unico patto che si poteva fare tra il centrodestra e il centrosinistra, nel quale si stabilisse che i giovani e i lupi non sarebbero stati candidati, entrambi avremmo fatto a meno dei loro voti e loro avrebbero smesso di lucrare sul consiglio regionale assieme alle loro famiglie. Noi non li abbiamo candidati, né giovani né i lupi e il centrodestra invece è candidato a giovani, anche in questo caso vota non può far finta che il problema non lo riguardi. Un consiglio che si è tenuto la scorsa settimana in cui abbiamo chiesto di avere risposte, di avere la posizione del Presidente rispetto a quanto stava succedendo all'interno della maggioranza regionale sul tema giovani non ha avuto risposte. Ma su questo credo che occorre aspettare con grande attenzione, con grande fermezza quello che il Tribunale ci dirà. E ci auguriamo che lo faccia nel più breve tempo possibile perché credo non sia assolutamente immaginabile che all'interno di un'aula che ha il potere legislativo possano esserci figure per i quali esiste una pesante affermazione di illegalità. Nessuna dignità! Questa regione sta dimostrando in questo primo anno di attività di essere in crisi, in crisi di etica, in crisi di rappresentanza. Oltre al processo giovine c'è il processo sulla sanità, su questo appalto dei pannoloni che vale 50 milioni di euro. Anche qui ci sono delle indagini, l'assessore alla sanità ha rimesso le deleghe al Presidente Cota. Allora, insomma, siamo qui per chiedere come da manifesto, giovine, tangenti e pannolone, Cota dimissioni. C'è stato un po' il tentativo da parte del Presidente nel non voler riconoscere la responsabilità politica. In realtà noi abbiamo riaffermato la responsabilità politica del Presidente nei confronti di quello che è successo sul tema della sanità. C'è stata l'espressione di una volontà di cambiare marcia, di inversione di marcia, stiamo attendendo i segnali, stiamo attendendo qualche nuova direzione in merito. Benvenuti in Italia, ripeto, da settembre che conduce questa battaglia, continueremo a farlo perché crediamo nelle istituzioni, siamo qui proprio per questo, crediamo nella politica, ma una politica che sia capace di rispettare l'etica e l'etica soprattutto dei cittadini in rappresentanza dei cittadini.